Anticipazione Il Segreto Prossime Storyline Jesus farà pace con Ignacio? Alicia e Thomas faranno coppia? Il Segreto si avvia verso il suo epilogo e le domande che attanagliano i fans a casa. Sono davvero molteplici. A rispondere molto spesso sono gli stessi attori. Angel Hector Sanchez, ovvero l'interprete di Jesus Urrutia e Alejandro Vergara, che ha impersonato Thomas de los Visos, hanno fornito su cose anteprime sulle prossime puntate, nonché hanno fatto delle importanti rivelazioni. Non resta che ascoltare nei dettagli le nuove Anticipazioni Il Segreto perché Jesus, se la serie fosse andata avanti, avrebbe lavorato sotto la direzione di una nobile donna molto tenuta da tutti. Thomas, invece, l'ex amante di Marcella, avrebbe conquistato l'ex amante di Mattias Castagneda, la coraggiosa Alicia. Esos Urrutia tornerà in fabbrica? Ecco la risposta del suo interprete, Angel Hector Sanchez. Uno dei protagonisti nuovi più amati del Segreto, giunto ormai agli sgoccioli, è sicuramente Esos Urrutia, fedelissimo braccio destro di Don Ignacio Solo Zabal, nonché marito di Encarnacion, ex cuoca della Casona, e padre di Alicia, il nuovo sindaco di Puente Viejo. L'uomo, come ben sapete, è finito in carcere per la morte di un operaio della fabbrica, del suo padrone, ed è uscito grazie ad un'amnistia concessa ai detenuti. Da allora il suo rapporto con Ignacio sembra essersi spezzato per sempre. Nelle prossime puntate trasmesse da Canale 5, l'uomo si ritroverà in difficili condizioni economiche e non riuscirà a trovare lavoro. Lo vedremo affrontare colloqui su colloqui e rientrare a casa con il cuore spezzato. Sua moglie preoccupata gli consiglierà di ritornare a lavorare al fianco del Solo Zabal, certa della riassunzione. Suo marito però, per orgoglio, gli risponderà di no. Angel Hector Sanchez, l'attore spagnolo, che ha prestato il volto a Jesus Urrutia in una recente intervista, ha rivelato che nel gran finale Jesus, il padre di Marta, Rosa e Carolina, avranno modo finalmente di riappacificarsi. Jesus è un uomo onesto e leale che nutre un amore sconfinato per i suoi cari e troverà il modo per perdonare Ignacio. L'attore ha affermato di essersi trovato molto bene sul set. La generosità dei colleghi, unita alle scrupolose indicazioni dei direttori, hanno reso molto semplice e scorrevole il suo lavoro. Il futuro di Urrutia era già stato previsto. Se il segreto non fosse giunto alla fine, Jesus sarebbe certamente ritornato a lavorare in fabbrica, ma non agli ordini di Ignacio, ma sorprendentemente sotto la direzione di Donna Francisca. Il perché resta un mistero. Forse dopo la riconciliazione era stato programmato che Ignacio avrebbe lasciato la serie? Chissà. Comunque sia l'attore ha ammesso di non aver vissuto nemmeno un momento negativo durante le riprese, fatta eccezione di quanto gli hanno comunicato l'epilogo della serie. Quanto al suo lavoro di attore, Angel Hector Sanchez ha rivelato che il suo amore per la recitazione è nato quando era bambino. Ha cominciato però all'età di 50 anni. Sua moglie Carmen lo ha fortemente appoggiato in questa decisione, motivo per cui le sarà per sempre grato. Quando è entrato a far parte del cast del Segreto si è sentito davvero fortunato. Quanto ai nuovi progetti, da poco l'interprete di Jesus ha fatto parte di alcune puntate di una serie tv iberica. A breve pandemia permettendo comincerà a girare un film. Angel Hector Sanchez vorrebbe tanto poter far parte di una serie giornaliera. I ritmi di lavoro delle swap lo affascinano non poco. L'attore infine ha ammesso di non essere mai stato in Italia e che ha promesso a se stesso di visitarla insieme a sua moglie quando l'emergenza sanitaria sarà finita. Sogna di visitare più posti possibili dai preziosi paesi costieri alle città monumentali. L'Italia per Sanchez è piena di eccellenti attori e se dovesse capitare l'occasione di ricevere un contatto lavorativo prenderebbe il primo volo senza esitare. E a voi? Hanno sorpreso le rivelazioni rilasciate dall'artista? Anticipazioni il segreto. Prossime story line. Tra Thomas e Alicia sarà happy end? Ecco cosa ha risposto Aleandro Vergara. E adesso soffermiamoci su Thomas de los Visos, il figlio maggiore della Marchesa Isabel. Se all'inizio della dodicesima e ultima stagione del segreto lo abbiamo visto molto preso da Marcela quando quest'ultima ha deciso di interrompere la relazione clandestina con lui e ricucire con Mattias, il giovane si è avvicinato tantissimo all'impavida e coraggiosa Alicia Urrutia a vestire i suoi panni e l'attore Aleandro Vergara. In una recente intervista l'interprete ha parlato a lungo del suo personaggio. Lo ha descritto come un ragazzo dai sani principi, nonché dotato di grande temperanza. Anche quando è entrato a far parte della setta antirepubblicana degli Arcangeli ha fatto di tutto per ostacolare i piani oscuri dei suoi superiori. È stato lui a tale riguardo a salvare Alicia da morte certa. Ragionevole e pronto a superare qualsiasi ostacolo ha amato tantissimo Marcela e ha rispettato anche la sua decisione di chiudere con lui quando Mattias è uscito dal carcere dopo ben quattro anni di detenzione. Thomas ha una relazione molto controversa con sua madre, la Marchesa Isabel e come vedremo prossimamente si opporrà con forza ad una sua terribile decisione durante una nuova riunione segreta degli Arcangeli quando cioè la donna, in accordo con Don Filiberto, programmerà nuove uccisioni. Al di là di quel che è previsto dal copione, lavorare al fianco di Silvia Marceau, l'interprete della Marchesa, è stata un'esperienza davvero unica per il Bergara. Silvia ha tanti anni di esperienza e sa fare molto bene il suo lavoro. Quanto al rapporto tra i fratelli de los Visos, Alejandro ha spiegato di essersi trovato molto a proprio agio con Adrian Pedraia, Adolfo de los Visos, che come lui è originario di Malaga. I due ancora oggi sono grandi amici. Ritornando alla SOP, l'attore ha svelato che avrebbe agito diversamente per quel che concerne il rapporto tra Thomas e la madre. Gli autori infatti solo verso il finale hanno chiarito per quale motivo la donna lo ha sempre trattato in maniera totalmente differente rispetto ad Adolfo. Thomas infatti è figlio del primo marito della potente signora, Simone. Inoltre nelle battute finali della telenovela, Jean-Pierre, il subito l'amante della Marchesa, cercherà di mettere i fratelli de los Visos l'uno contro l'altro. Thomas però farà una scoperta importantissima, destinata ad aprire gli occhi alla madre riguardo non solo al suo amato, ma anche concernente Ignacio. Sì, perché l'impresario ha ostacolato l'amore tra lei e il francese, solo per difenderla e non per altri infimi scopi. Sempre verso l'epilogo vedremo Alicia e Thomas più vicini che mai. A quanto pare però i due non diventeranno mai una coppia. O meglio, gli eventi non lo consentiranno. Quanto ai nuovi progetti di Alejandro sappiamo che ne ha davvero tanti in cantiere e che la recitazione è, ed esserà sempre, la sua passione più grande. Nel tempo libero adora praticare tanto sport, leggere, andare a teatro o al cinema. Inoltre, ama anche stare semplicemente in famiglia, con i suoi migliori amici e soprattutto viaggiare. E a voi? Avrebbe fatto piacere vedere il giovane dello Svisos al fianco della coraggiosa e ribella Alicia, pergiunta ex amante di Mattias, che all'inizio era il suo rivale in amore? O al contrario, speravate nella reunion con Marcela? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti! Grazie! 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 Grazie!